E' iniziato oggi il ritiro precampionato della prima squadra dell'Arezzo. Oggi pomeriggio alle 17.30 si è svolto il primo allenamento sotto la guida di Paolo Indiani e il suo staff. La società ha oggi annunciato l'ingresso nello staff tecnico della prima squadra di Riccardo Di Pisello e Manuel Sinatti. Riccardo Di Pisello vanta una lunga esperienza e arriva in Amaranto come collaboratore tecnico e preparatore dei portieri. Tra i volti nuovi c'è anche Manuel Sinatti classe 1997 lavorato in scienze motorie che in passato ha già avuto modo di lavorare tra le fila del cavallino nel settore giovanile Amaranto. Affiancherà il preparatore atletico Maurizio Pecorari. E veniamo al calciomercato. Arriva in Amaranto Davide Di Pasquale classe 1996 capitano del Foggia con cui in due stagioni ha messo insieme 55 presenze e 4 gol. È un mancino, un giocatore rapido, aggressivo sull'uomo e particolarmente bravo a far ripartire l'azione. Adesso mancano soltanto due caselle da riempire, quella di un altro centrale e quella di una prima punta. Un giocatore che sappia andare in doppia cifra, uno che lì davanti faccia la differenza.